Cambio della guida tecnica del Napoli via Spalletti, entra Rudi Garcia, il tuo pensiero? Sicuramente è un grande allenatore, però purtroppo non so se riuscirà o se sarà in grado a fare quello che ha fatto Spalletti in questo anno, che è stato un anno magico e ci ha portato alla vittoria dopo 33 anni del tricolore qui in Italia. Quindi non so se sarà in grado di fare quello che è stato in grado di fare Spalletti, speriamo di sì, speriamo che ci porti un altro tricolore a Napoli. Cosa ti aspetti dalla prossima stagione del nuovo allenatore? Io mi aspetto che i giocatori siano abbastanza bravi da riuscire anche con questo allenatore a fare grandi cose, quindi un secondo posto sarei già contento, però se c'è il primo ancora meglio. Si parla anche del possibile addio di Giuntoli? Quello mi ferisce molto più di Spalletti perché Giuntoli è stato uno dei principali pilastri del Napoli in questi anni, scovando giocatori a poco prezzo, ma con grande potenzialità, come Quara. Quindi lui è il pilastro fondamentale di Napoli che mi dispiace di più che se ne va di Spalletti. Si è visto già l'anno scorso, tutti quanti a fare l'allenatore e poi alla fine hanno vinto lo scudetto, ora stanno cominciando con Garzia e un'altra cosa, noi siamo un po' perché non ci accontentiamo mai di niente. Si vocifera anche del possibile addio del diritto sportivo Giuntoli, cosa ne pensa? Che morto un papa se ne fa sempre un altro e non significa che non è migliore di quello di prima. Dopo l'addio di Spalletti è arrivato Rudy Garzia, il suo pensiero? E' come ha fatto la Roma, si fa 10 vittorie consecutive, a squadrare, potevano invece più con Quangelo, con Benitezze. Quindi prevede un Napoli in lotta per lo scudetto anche nella prossima stagione, anche con il nuovo allenatore? Vediamo, vediamo le altre squadre che fanno. E' una scommessa, anche Spalletti, io non ci credevo, poi si è rivelato alla fine un'ottima cirta del Presidente. Dobbiamo credere sempre nel Presidente, forza Napoli. Quindi secondo il tuo punto di vista è il profilo giusto per il dopo Spalletti? Non possiamo di essere sicuri, però ho detto, neanche Spalletti, Sade, erano tutte scommesse. Speriamo che questa anche sia la scommessa buona per il Presidente. Si vocifera anche del possibile addio di Giuntoli, cosa ne pensi? Io ho sentito che non se ne va, almeno per quest'anno. Speriamo di no, poi se è il suo volere è meglio che se ne va, perché se no non si fa bene quando non si vuole stare. Ha letto anche delle possibili voci di mercato, i possibili addichi di Kim o le trattative per Rosyman. Prevedi un Napoli in lotto per lo scudetto anche nella prossima stagione? Se non vendiamo nessuno, penso che ce la giochiamo sempre di nuovo. Anche quest'anno potremmo vincere lo scudetto. Il Presidente ha annunciato anche che si punterà anche alla Champions League. Quello è difficile, la Champions è difficile. Ci sono squadre con molti più campioni, più budget, soldi da spendere. Noi non siamo a quei livelli di City, Real Madrid e Bayern Munich.